Ecco la Madonna di Lourdes sta uscendo adesso dalla Basilica minore di Don Arcado. L'Unità si è un'associazione che porta i malati all'Lourdes. Oggi, quest'anno, 2024, c'è il 120esimo anniversario. Aspetta un'altra, aspetta. Stiamo uscendo in questo istante dalla Basilica di Don Arcado, dove è stata uspita per due giorni. Centinaia e centinaia di persone, vedete qui, con le fiaccole, che hanno fatto da Corona alla Reata Vergine Maria. Ecco il sagrato... Aspettate! 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 Tanto tante mani che toccano il simulato della Reata Vergine Maria. Sono anche i carabinieri che con il pennacchio stanno ai fianchi della Madonna. La piazza nella parte alta, nella parte alta e grimita di pedeli e pellegrini. Ecco, arriva sacerdote. Ecco, arriva sacerdote, un viaccono, due sacerdoti che adesso incensano la Beata Vergine Maria. e poi...